Benvenuti a 5 culti religiosi che non credevi esistere, ovvero 1. Twelve tribes Questi simpaticoni cercano di ricreare le 12 tribù descritte negli atti degli apostoli. Fino a qui tutto bene se non considerassero ogni altra religione figlia della meretrice di Babilonia e quindi destinata a morire. Non che si mettano a far guerra, diciamo che preferiscono abusare e picchiare i loro figli e obbligarli a lavorare fin da quando sono piccolissimi. Inoltre fanno degli strani valli in giro per far credere a tutti di essere una comunità gioiosa e per attirare nuovi accoliti. 2. Eastern Lightning I seguaci di questo culto tutto orientale sostengono che Gesù sia tornato sulla terra, sotto le mentite spoglie, attenzione, di una normalissima donna cinese di 30 anni che vive nell'ombra. Sono più di un milione in Cina i seguaci del Eastern Lightning e soprattutto sono famosi per tre cose, minacciare, rapire e torturare i cristiani e per una mega rivolta del 2012 in cui propagandavano la fine del mondo. Mentre in più di 500 venivano arrestati, pare che uno di loro abbia urlato Fermi tutti, sor fratello di Gesù! Altro che Modern Family 3. Aum Shinriko Fondato nel 1987 dal celebre giapponese Shoko Asha Ara, è semplicemente un gruppo di giapponesi che cerca di far scattare la terza guerra mondiale per avvicinare il mondo alla sua fine. Così nel 1995 un gruppo di suoi adepti ha diffuso gas sarin nella metropolitana di Tokyo, uccidendo 12 persone e intossicandone almeno 6.000. Shoko Asha Ara è stato riconosciuto colpevole di aver architettato l'operazione e ora è in carcere in attesa di essere giustiziato. Più che del mondo, meglio la sua di fine. 4. Il culto del cargo di John Froome In un piccolo arcipelago del sud pacifico c'è una religione che crede che ringraziando Dio ogni giorno, intagliando pistole nel legno e scrivendoci sopra USA, pioveranno beni dal cielo. Fino a qui tutto bene, non fosse che a volte scatta del simpatico cannibalismo. 5. Nuabianism Il nome è impronunciabile, ma questi dovete proprio sentirli. Senza troppi fronzoli ecco quello in cui credono. 1. I feti abortiti in realtà sono sopravvissuti nelle fogne dove stavano preparando la rivoluzione. 2. Un tempo le persone erano simmetriche e ambidestre, poi un meteorite ha colpito la terra spostandolo il cuore nel petto rendendoci asimmetrici. 3. Tutti abbiamo sette cloni di noi nel mondo. 4. Le donne hanno dominato il mondo per generazioni, prima di inventare l'uomo con manipolazioni genetiche e farsi fregare. 5. Nikola Tesla era in realtà venusiano. E infine, il figlio di Satana è vivo e vive in Belgio dove è incatenato a un computer chiamato 3666. Sarebbe figlio di Jacqueline Kennedy ed è stato cresciuto da Nixon. Ti è piaciuto questo video? Ci mancherebbe altro, altrimenti ti mandavamo a casa agli amici di John Froome. Iscriviti al canale, metti mi piace, guarda una delle nuove fiabe brevi, oppure scava, scava la ricerca di tutte le cose che non sai. Tutto offerto da bonsai e gratis.